Decima e ultima tappa per il Biovan di Natura Si, il marchio dei negozi biologici a Napoli in piazza Van Vitelli e in via Partenope fino a sabato 14 luglio per parlare di futuro dell'agricoltura e dei giovani. Il tour del biologico ha diffuso a bordo di un iconico Volkswagen anni 70 la rivoluzione del gusto portandola in dieci piazze italiane dove si sono incontrati agricoltori esperti, negozianti, appassionati e curiosi del bio per scoprire insieme i progetti della filiera Ecor a tutela di una sana agricoltura. Tra degustazioni gratuite e di prodotti stagionali e locali, colazioni, merende e aperitivi bio, i cittadini hanno conosciuto le aziende biologiche e biodinamiche fornitrici di Natura Si impegnate a produrre un cibo di qualità preservando la salute della terra e dell'ambiente. Nicola Dalforno ha seguito in prima persona il biotour La Rivoluzione del Gusto. Con la rivoluzione del gusto abbiamo coinvolto 100 negozi in 10 città diverse, abbiamo distribuito 1650 succo di mela di zenzero. Marco Dalboni, nostro barman, ha creato 5000 estratti di frutta di stagione con 4000 macedonie con yogurt biodinamico. Sono 80 i prodotti della rivoluzione del gusto Ecor realizzati seguendo le linee guida di una corretta alimentazione. Meno zuccheri, meno aromi naturali, sostituzione delle farine bianche con quelle semi integrali e utilizzo di grassi e oli vegetali di qualità alternativi all'olio di palma. In ognuna delle 10 tappe è stato affrontato un tema diverso. Sapore, stagionalità, filiera, biologico ma anche etica, sapere, benessere, natura e prezzo. L'ultima tappa è dedicata al futuro dell'agricoltura e alle nuove generazioni.